Ciao Fisio e bentornati sul canale YouTube di FisioScience. Nel video di oggi vi mostrerò come valutare la presenza del segno di Babinski, un test che viene spesso utilizzato per lo screening neurologico. Il segno di Babinski ha una sensibilità riportata del 51% e una specificità del 99% nella rilevazione di lesioni a carico del primo motoneurone, come riportato in uno studio di Jaramille Collaboratori del 2014. Solo una cosa prima di iniziare, ci siamo accorti che l'80% di voi che segue con regolarità i nostri video non è ancora iscritto al nostro canale. Per voi non costa nulla, ma per noi è davvero importante, per cui prima di andare avanti ricordatevi di seguire il nostro canale. Per valutare la presenza del segno di Babinski, passa un oggetto puntito dal tallone lungo l'aspetto laterale del piede e poi medialmente verso l'alluce. In un soggetto sano, questo test risulterà in un riflesso flessorio dell'alluce o di grasp. Il segno di Babinski è un riflesso patologico e durante l'esecuzione è caratterizzato da un'estensione dell'alluce associata ad un'abduzione delle ultime quattro dita. Nei casi più gravi questo può anche essere accompagnato da una flessione dell'anca e del ginocchio. Un segno di Babinski positivo indica quindi una perturbazione del sistema piramidale che potrebbe essere dovuto sia da danni strutturali che anche da disturbi temporanei dovuti soprattutto ad epilessia oppure intossicazione. Eccoci Fisio, se vi è piaciuto questo video ricordatevi di lasciare un bel like e di seguire il nostro canale. Ci vediamo al prossimo video! Ciao!